vorrei porgerti con il cuore i miei auguri di un santo natale nel signore lo faccio attraverso due parole della bibbia che secondo me interpretano bene il periodo che stiamo vivendo la prima è presa dal profeta Isaia è una sua professione di fede nel momento oscuro dell'esilio del popolo di Israele in terra babilonese dice il profeta solo in te è Dio non ce n'è altri veramente tu sei un Dio nascosto salvatore la seconda parola è presa da un inno a Cristo all'inizio della lettera ai Colossesi è piaciuto infatti a Dio che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose avendole pacificate con il sangue della sua croce mai come in questi santi giorni sentiamo il desiderio di affidarci all'attività riconciliatrice dell'unico salvatore che misteriosamente ma realmente sta attraendo noi i nostri cari e il mondo intero verso la salvezza buon Natale nella pace dei cuori